A partire dal lunedì 28 giugno 2021 torna il trans inservito, il programma magnifico realizzato, mediato da Corrado nel lontano 1982. A condurlo ci sarà il simpatico Flavio Insinna, non da solo infatti in sua compagnia avremo anche la bella, brava e simpatica Ginevra Pisani. Quindi da una parte Insinna e dall'altra Ginevra Pisani andranno a condurre proprio il pranzo del servito. Vi ricordo che Ginevra ha preso parte già a qualche day di show di Maria di Filippi dove è stata scelta da un Instagram di Angelo, sto parlando ovviamente di uomini e donne, poi è diventata, vi ricordo, una professoressa proprio di l'eredità, il programma televisivo di Casa Rai, va bene? ha annunciato di recente su Instagram l'apertura nuova avventura in tv, sono andata a sorprendere non poco i diversi fan, i diversi amici personaggi che la seguono. Complimenti dunque alla bellissima e simpatica, nonché sexy Ginevra Pisani e al buon Flavio Insinna perché ripeto dal 28 e 28 giugno potremmo vedere in tv il pranzo del servito. Un saluto alle caro d'Aleando, narratore italiano, iscrivetevi al canale, ciao! Grazie!